Ciao ragazze, oggi nuovo video, vediamo se riesco a girarlo perché in realtà ho pochissimo batteria quindi certerò di essere super 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 veloce Allora, il video di oggi riguarda i profumi Ho voluto fare una top 10 di tutti i profumi che preferisco Ne ho svariati in casa e alcuni invece sono quelli che utilizzo o maggiormente mi piacciono di più oppure sono quelli che in base al clima, al tempo e anche al momento mi piace usare Allora, primo posto, anzi partiamo dal decimo posto perché è una top 10 quindi partiamo dal decimo posto Quello che nei miei 10 preferiti ma non è proprio super top Al decimo posto ci stanno, ci sono chiacchi profumi Quindi parliamo con profumo, decimo posto Il decimo posto come profumo è dato da Flora di Gucci Mi piace molto, è delicato, buono, fresco, più primaverile che altro Ed è uno dei miei profumi favoriti, di solito l'uso in più appunto in primavera nel periodo un po' più dove non è né caldo né freddo Quindi è un profumo che uso più o meno in primavera E appunto si chiama proprio Flora, erano 4 profumazioni E questa era l'unica che mi sembra proprio di buono, di pulito Cioè più che di pulito, anche di pulito però di fiori Cioè proprio un bouquet floreale tipo appunto un bouquet matrimoniale Quelle cose tipo festa, quindi quando lo indosso sento il profumo della festa E mi piace Al nono posto non è un profumo ma è un'acqua Ed è della serie delle acque di Victoria's Secret Questo è il Purse d'Action Ed è l'acqua Red Plum e Frisia Questa ha di bello E io non so se si riesce a vedere Magari poi faccio la foto e la metto qui o qui È piena di piccoli brilluccini dorati Quando le usi d'estate si copre il corpo Spesso dopo magari la doccia o quando esci dalla piscina Ti esce queste piccole pagliuzze dorate che brillano Che sono bellissime, a parte il profumo che è veramente fantastico Io lo adoro, di solito esco dal bagno e spruzzo Siamo avvolti in questa nuvola Che ti sembra proprio di camminare sulle nuvole Veramente è una delle mie acque profumate preferite Questo qua è molto buono Non è la mia preferita ma come non ho posto È un'ottima acqua, mi piace Ottavo posto abbiamo il profumo Mi è stato regalato per il compleanno Quindi ce l'ho da qualche mese, non tantissimo È i profumi di Firenze Frangipane e Cocco Questo è completamente diverso È un profumo a sprigno Adesso di scrivere i profumi è difficilissimo A sprigno ma Pungente, quasi un po' maschile Però si sente il frangipane e quella punta di cocco Che non la senti subito La senti dopo quando ce l'hai addosso Questa mi è stata regalata dalla mia tata madrina Quest'estate appunto per il mio compleanno E anche questo è molto Dei profumi di Firenze Io l'ho conosciuta perché c'era una botteguccia Vicino a dove appunto avevo la festa di campagna E appunto abbiamo provato questo E mi sono subito innamorata Ed è stato il mio regalo di compleanno Ancora dico grazie tata Ok Quindi vi ho detto 10, 9, 8 Questo è l'ottavo posto Al settimo posto Troviamo Vabbè Questo è un must Cartier Questo è Dovrebbe essere Le Basi Se non sbaglio Perché vedo che c'è Cartier Ma non vedo Chi dovrebbe essere Le Basi e Volè Questo è un must Cartier Come Chanel Chanel è un po' più su Sono buonissimi Cioè sono profumi Che io Adorissimo Mi piacciono tanto Quindi È uno dei miei favoriti Perché è comunque molto buono È un profumo che tutti dovrebbero avere Secondo me Tutte le donne Tutte le ragazze Tutte le donne Perché è un profumo Da donna Quindi 10, 9, 8, 7 Sesto posto Già ci alziamo un po' più su Al sesto posto Lascio un'altra acqua Che è questa E ve la faccio vedere Sempre di Victoria's Secret Con il suo olio Perché li ho presi in abbinata Questi due Anche questo si chiama Sheer Love E sono un'acqua E io ho presi appunto Laminata con l'olio Quindi io sprutto Prima l'olio Dopo la doccia E poi questa Anche qua C'è l'odore È completamente diverso Da quella di prima Ci sono proprio Profumazioni Io ne ho variate Di Victoria's Secret C'è il cocco C'è appunto La fresia Ci sono tutte diverse Anche questa è molto molto buona Questa anche Sì D'estate Di solito prevalentemente Mentre l'altro uso anche No non è vero L'uso tutti e due Anche d'inverno Questo qua l'uso d'inverno Come l'uso questi qua di estate Sono tutti e due In modo buono Mi piacciono tantissimo E se andate da Victoria's Secret Negli aeroporti O magari nella vostra città C'è Prendetelo Perché veramente Questo abbinata Merda Cioè uscite E davvero Non dico lasciate la scia Però La gente si accorge che passate Ma senza essere troppo invasivo Ma mi piace Invece Good Quindi Passiamo agli ultimi posti Abbiamo detto 10, 9, 8 7, 6 Quinto posto Anche qua un'acqua E mi piace veramente tantissimo Che è di Elisabeth Arden Questa la trovi Negli store Tipo Tigota Cioè quindi nel drugstore E questa è pochissimo Tipo penso 17 euro Io mi sa che l'ho preso di sconto L'ho pagata 13 L'ho pagata veramente pochissimo E questo è proprio il buono Cioè il pulito Io l'avevo abbinata L'avevo messa anche su Instagram In una foto Questa con il deodorante Della Brizz al tè verde Perché della Brizz In realtà l'unico deodorante Che riesco a usare È il 69 Non verrà 69 Che è O il 60 Non mi ricordo È quello grigio E avevo fatto forse anche un video Che non so se è già andato su Sul discorso dei deodoranti Dei preferiti Mi sa Però anche quello al tè verde Era molto buono Solo che è stato introvabile Io l'ho usato Tipo Perché non riesco a trovarlo E quando lo trovo lo prendo Però in realtà È molto buono anche quello lì E questo Questo proprio lo spruzzi E sai di pulito Tu giri e dici Abbracci qualcuno Abbracci qualcuno La gente sente pulito E questo A me piace tantissimo Perché non mi piace abbracciare qualcuno Che Non si sente O fa cattropeggio O fa cattropeggio Quindi questa Ragazza Tenetela sempre nella borsetta Perché È un must Veramente È bella Cioè fantastica Top 4 Attenzione Ci saliamo nell'Olimpo Nell'Olimpo abbiamo Ragazze Qua è diventa difficile Acqua dell'Elba Anche questo Un profumo pulito Come C'è l'acqua Appunto Quella che avevo detto prima Di L'Italia By Tarden Questo è per me Il corrispondente Profumo Del profumo pulito Acqua dell'Elba Avevo anche la sciaponetta E la sciaponetta Era bellissima Perché lo usavi la mattina Non dico quando devi mettervi la crema Ma quasi C'era veramente buonissima Anche solo per le mani Ti lascia proprio le mani profumate C'era Stupenda E questo Ok Questo è proprio il profumo Del Del Pulito Ragazzi C'è poco da dire Tu utilizzi queste cose E Stai di Pulito Non sono quei profumi talcati Forti Che tu dici Sì sembra il talco della nonna Ma è troppo forte Questi invece sono delicati Poi dopo un po' Non svaniscono nell'aria Però le note rimangono Magari tu ti muovi Muovi il capello Muovi la sciarpa Se la spruzzi sulla sciarpa E c'è questo profumo Che le persone dicono Mmm Buono Che cos'è Perché Piace alle gente Sapere La gente è curiosa Quindi piace sapere che profumetto Ti dici Acqua dell'elba Oppure ancora meglio Mettare il secret Ad esempio io dico sempre Ho preso quando ero a Londra Poi certo c'è anche l'aeroporto qua da noi Però è più Più bello Più scena Sì sì Quando viveva a Londra Ho preso quello Ah davvero Molo Grande Top E qua se la giocano Quasi a pari merito Allora Di solito L'ho sempre messo come primo Però in questo caso È sempre nella top 3 È il numero 5 di Chanel Io ho provato anche il Gabrielle Quello nuovo Però questo è proprio Un po' come Il discorso che facevo prima Per Il Cartier Sono profumi da donna Una donna Dovrebbe avere sempre in casa Un numero 5 di Chanel E un Cartier Perché sono profumi Che proprio Danno un'idea Non tanto della mamma Però proprio della donna Della femmina Secondo me Chanel Vabbè Chanel è il top È sempre stato il top Quindi Ci sta Questi sono prodotti che Si amano E Certo sono intensi Non sono Il profumo da ragazzina Non è Un'acqua dell'elba Non è un Gucci Però questi Questo è adatto A una persona grande Di certo una ragazzina Con un Chanel Usi un Coco Usi un Magari un Gabrielle Il numero 5 È proprio da signora Però io l'ho sempre amato Mi è stata sempre nel cuore E L'ultima confezione Me l'aveva regalata la zia E è ancora questa qua Quindi Parliamo di un po' Di anni fa Non lo uso tanto Ma quando lo uso Si sente Top Due profumi Spero che la telecamera regga Questi se lo giocano Quasi pari merito Perché a me piacciono Veramente tantissimo Questo è L'Eau de lune Di Laura Mercier Di Laura Mercier L'ho cominciata a conoscere Quando appunto Vivi a Londra E La stra Adoravo È un È francese Come i miei brand E l'Eau de lune Proprio quando l'ho sentito Io l'ho preso in Italia Questo qua L'ho preso da coin E ho aspettato il 20% di sconto C'è proprio spruzzato sulla sciarpa Io l'uso molto inverno Questo Mi piace tanto È uno forse appunto Dei miei favoriti Proprio si chiama Quello del lune Quindi anche un po' Il fatto Mi viene in mente Claire del lune Di De Worsi Sono quelle cose Che ovviamente Si associano a me E questo Mi piace tanto È penso Quasi il top Dei profumi Che possiedo Poi ne ho altri Perché ne ho Anche di Avone Ne ho di altre marco Perfumi di Forse mi ho preso Di Worsi Altre marche Però Questi sono proprio I miei top Che Che stra Adoro Ragazzi Chi ha visto I miei video Dei preferiti Tanto lo sa E qua Sì Vuoi il brand Tutto quello che ti pare Ma Ragazzi Non c'è pacca Bombshell Victoria's Secret Ragazzi Quest'altro che è Londra Questo l'ho già ricomparato Penso almeno Un paio di volte L'avete vista Nei miei L'ultimo I miei preferiti Magari ve lo metto Qua Dovremmo andare Un mercoloso di qua Di qua E lui E lui è proprio Il mio favorito E questo è Il mio Top 1 Per quanto riguarda I miei profumi Ragazzi Questo è il video Di profumi Dico solo due cose Però non sono sicura Se riesco a fare Uscire il video Prima Della fine del mese Perché ne ho già messi Due o tre In programmazione Per averne Almeno una settimana Nei giorni scorsi Quasi in circa Metà di novembre E Sono nata in edicola E in edicola L'ho comprato L'avevo messo già anche Su Instagram L'avevo messo nella story L'avevo messo in mia lato Anche sul blog Cosmo Di Appunto novembre Quello edizione pocket Da un euro All'interno Io ve lo vado a prendere Perché ce l'ho qua Ta da C'era questo balsamo Della No non è vero un shampoo Non un balsamo Della Biopoint E Speedy Air Shampoo Biopoint Professional Ed è un 100ml Considerando un euro Di shampoo ce n'è Non l'ho provato Perché l'ho comprato Veramente c'è proprio Due giorni fa Il tempo di fare i video E il tempo di segnalarlo Comunque Sul blog Di segnalarlo Su Instagram In modo tale che Insomma che Se qualcuno interessa Se lo può andare a prendere Un po' come fanno molte ragazze C'è anche alcuni gruppi Facebook Dove proprio Vedi in edicola che c'è Non so Il rosetto di Salvoran Piuttosto che di un brand Piuttosto che una crema E molte te lo dicono Quindi tu fai in edicola E chiedi Quel determinato prodotto Se non sei una di quelle Che si compra Tipo 50 giornali Io Penso che sia stato un caso Sono intrati in edicola Con mia madre Mia madre mi ha detto Vuoi qualcosa? Io ho visto Cosmo Cosmo mi piace E ho detto Ok prendo Cosmo E casualmente Ho trovato Pensavo fosse una crema per mano Guardate Ma ciò Però C'è cavolo È tanto 100 millilitri E sono molto curiosa Di provarlo I capelli crescono Più forte Più velocemente E' efficace Approvata Qualità del salone Ragazzi Vi saprò dire Vedremo un pochettino Come andrà Con questo Shampoo Se davvero I capelli Ne traranno Il nostro gran beneficio Da ora in poi Lo proverò a utilizzare Nei prossimi 5 o 6 Insomma Shampoo Che farò E vi saprò dire Questo andrà Nei prossimi preferiti O sfavoriti Ragazzi Ultima cosa Vi voglio parlarvi Un'applicazione Che non è La classica Cioè La classica applicazione Per il telefono È una applicazione Clamp Ovviamente Sul telefono E non ce ne trovo Però col make up Me ne parlerò Tra un secondo Ok ragazze L'applicazione Della quale volevo parlarvi Si chiama Lala Lab Su Instagram Spesso e volentieri Trovate sponsorizzata È un'applicazione Per stampare le foto Io l'ho fatta Adesso vi tengo girate Perché la seconda volta Che faccio il video Ovviamente c'erano Tutti i miei apparacci Tutti i miei dati Io proprio l'ho visto Davanti alla telecamera Bella come si sono E questo è il pacchetto E sono praticamente foto Di solito Io sto un po' con la stampante Però visto che il prezzo Non era altissimo Ho detto proviamo All'interno avete questo Io non ho fatto il pacchetto regalo Ho fatto il pacchetto normale Questo package in tutto rosa Con scritto Lala Lab E le foto Che io sono andata a mettere Potete spedire un messaggio regalo E in questo caso Io mi sono auto Spedita un messaggio Tipo Questo è un piccolo regalo Per me Insomma Una frasina carina E soprattutto Con questo Vabbè A parte esserci un foglietto Tipo per fare un origami C'è un grattevinci Che l'ho visto prima E non so Dove l'ho infilato Penso che mi sia appena caduto Dove puoi grattare Tipo avere una promozione E in più Tutti quelli che inviti Quando loro ordinano 5 euro per te E 5 euro per loro Quindi casomai sotto Vi lascio il codice Su quale poter appunto Ordinare Questo è il risultato Adesso ve ne faccio vedere qualcuna Perché ovviamente Ciao Formati Io ho scelto il formato vintage E ragazze Ciao Ovviamente ho scelto foto Che poi mi andranno Per un progetto Di restyling Della stanza da letto E quindi ho deciso Di fare un makeover Completo con il mio all'inizio dell'anno Devo comprare alcune cose E poi vedrete mano a mano Tutti i makeover Che sto già Cominciando a fare Con alcuni prodotti Mentre sto ancora preparando Il coso di Natale Perché appunto Sto preparando tutti gli addobbi La qualità Comunque una qualità Fotografica Io intanto Mentre parlo Ve le scorro Perché Sono veramente belle Se secondo me La qualità è buona Sono formato vintage In questo caso sotto Ci puoi scrivere Ad esempio Io qua Ci ho messo Una fotina con le mani Oppure in alcuni casi Tipo Non tanto queste Ma Sto continuando a sfogliare Tipo questa qui Quella di Con le scritte Questa no Tipo in questa È una dei miei video Ci ho messo sopra Tipo Il nome del canale Perché l'attaccherò E la metterò vicino Appunto A un mobiletto Dove ci saranno Tutte le cose di Youtube Questa era una foto Che avevo fatta a Natale Questa È un'altra foto Sì Aspetta che vi stavo cercando Uno Tipo questa È la foto Della mia migliore amica Elga Ed è una foto nostra E Ci sono molto regate Tra prendere questa foto Perché Eravamo mandati insieme Al Al mall Di Vicino Firenze E Praticamente era un Un enorme Non era un centro commerciale Proprio un mall Dove tu andavi E c'era San Loran C'era Marc Jacobs C'era Gucci Ho preso la borsa di Gucci Il circular di Gucci Lì Infatti avevamo messo la borsa Poi esattamente il nome Non me lo ricordo E ve lo scrivo magari Nell'info box E avevamo preso Io ho preso la borsa Di Marc Jacobs Questo E quindi è stata una foto Che mi ha ricordato tanto E mi è piaciuto molto E L'ho voluta tenere Anche perché questa qua Non ricordo Mi è suo Lei C'era Praticamente la mia migliore amica Come potete immaginare Ho continuato per un'altra 5 minuti buoni a parlare E in realtà la telecamera Si era già mezza scaricata E la memoria Avevo usato una memorietta piccola Era completamente piena Quindi io non me ne ero accorta Ma È andato tutto a rusco Quindi ragazze Io intanto vi do il buongiorno È domenica mattina Io sono a pezzi Perché ieri è venuta Ilga E ho fatto tipo le due di notte Perché ci siamo guardati L'inizio di una serie tv E quindi niente Quindi adesso Sto usando la telecamerina Dei vlog Che è appunto La Nikon piccolina Poi vi parlerò anche di questo E vi faccio vedere intanto Che cosa fa la Titti Piccola Che c'è la fai? Ciao piccolina Saluta Penso che non vi interessa Il mio momento Di cagar nessuno Vediamo invece il piccolino Ciao ciao Senti l'odore del caffè? Guarda 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 il caffè Curioso Mamma Cioè dovete vedere le luci Che ci sono Questo è quello che tu vedi Fuori dalla mia finestra Quindi praticamente La foresta Io sono in un posto Molto tranquillo E la cosa bella È che insomma È un Come si dice Un cortile È una corte interna E quindi Va benissimo Cioè tranquillo Si sta bene Quindi ragazze Vi farò la morning routine Magari vi faccio vedere Anche che cosa c'è qua intorno Un Buon Inizio di domenica E Intanto mi bevo il caffè Ciao Buon Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.